BORRIELLO Il suo stop di destra e il tocco per Pato di sinistra, questo ha velocizzato l'azione e ha concesso quel metro in più per la battuta a rete Come l'anno scorso a Siena, è lui che apre la stagione del Milan, Alessandre Pato, bravo Ambrosini Tocco di destra di Ambrosini, tocco di sinistra, questo ha concesso quel metro in più a Pato per prendere il tempo al difensore e battere con più regolarità e tranquillità a rete Io anche se è un ragazzo che ha giocato già quasi 80 partite in serie, ricordo sempre che è dell'89 Io non vi Grazie 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 Grazie